Vola l'inflazione a novembre, mai così alta dal 2008, aumenta dello 0,7% su base mensile e del 3,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il carovita continua ad essere sostenuto soprattutto dalla crescita dei prezzi dell'energia. Lo rileva l'Istat, che però conferma anche il ritmo sostenuto del PIL. Nel terzo trimestre la crescita è aumentata del 2,6% in confronto al trimestre precedente. Per la fine dell'anno la variazione acquisita è del 6,2%, superiore di due decimi rispetto alle stime del governo. Sul fronte manovra Palazzo Chigi cerca l'intesa con i partiti per blindare l'iter della legge di bilancio in Parlamento, ma con i sindacati è rottura sulle tasse. CGL, CISL e UIL pensano allo sciopero generale. Le classi torneranno in DAD anche con un solo contagiato. Lo stabilisce una circolare ministeriale firmata ieri sera. Il governo sceglie la strada della prudenza visto l'aumento dei positivi da Covid. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, prevede nelle prossime settimane un'Italia quasi tutta in giallo, ma confida nel Super Green Pass per evitare chiusure a Natale. La variante Omicron continua a diffondersi e i virologi non hanno ancora chiarito se si è in grado di bucare i vaccini. Intanto l'amministratore delegato di Moderna annuncia nel giro di 3-4 mesi un siero ad hoc, proprio perché, dice, è necessario sviluppare nuove forme di immunizzazione. Il 72% dei votanti del Movimento 5 Stelle è d'accordo sul ricorso ai fondi del 2x1000. È questo l'esito del voto online a cui hanno partecipato quasi 35.000 militanti. Quindi anche i pentastellati potranno beneficiare del finanziamento dei contribuenti. È una vittoria di Giuseppe Conte che però spacca il partito. Tanti gli scettici sulla necessità di conformarsi agli altri partiti, dalla ministra Fabiana Dadone al capogruppo alla Camera Davide Crippa. Si riorganizzano attorno ad Alessandro Di Battista invece gli ex grillini. Sulla testa sarà il nuovo partito che vedrà proprio Di Battista come leader. Quest'anno il PIL del centro-nord si attesterà al più 6,8%, mentre nel sud crescerà del 5%. A stimarlo è la Svimez. Il rimbalzo ci sarà per l'intero territorio italiano, si legge nel rapporto dell'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel mezzogiorno. Il sud resta comunque meno reattivo nel rispondere agli stimoli di una domanda legata a esportazioni e investimenti. Con la pandemia sono aumentate le famiglie in povertà assoluta. Adesso sono 2 milioni, quasi la metà al sud.